grazie ho scritto una canzone grazie grazie ho scritto una canzone 15 anni fa 15 anni fa per un mio amico francese che voi, che voi amate moltissimo e non è più con noi quindi per Giudocent io ho scritto 15 canzoni e vorrei dedicarvi qualche canzone che ho scritto per Gio da sempre, una canzone che piaceva molto a Gio è questa che vi presento e che si chiama appunto Exit un Existe Existe Grazie per la visione 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 Grazie per la visione